In quel momento gli è arrivata una telefonata che avevano visto il fruco al cinema. L'ha saluto tutto con il fruco al cinema, ma nel frattempo le insegne avevano preso fuoco a fondamentale. Quindi c'è l'anerito tutto, le tospette, le tospette, le tospette. E poi il filo dopo l'arrivano tutte le tifiche a fuoco. E poi se lo fanno, eh? E te, eh?